se aspettate che lo dica lui tanto vale è opportuno che lo dica io torna Portobello dicembre venerdì rete 2 torna con un particolare nuovo un angolo per i collezionisti torna devo dire a grande richiesta da parte dei nostri cortesi telespettatori torna con lui è un po' in muta è un po' spennato ma sarà a postissimo per quella sera torna con i vostri cercasi e offresi torna sì con quei fiori d'arancio che hanno costituito il punto del sogno d'amore per parecchi telespettatori come sì ci sarà ecco sì sì ci sarà anche il dove sei che è il momento dedicato alla memoria e ricorderete quante persone hanno ritrovato altre persone in quella nostra rubrica quindi le vostre offerte i vostri oggetti curiosi i vostri offresi o cercasi le vostre storie soprattutto scrivetecele a Portobello RAI Corso Sempione 27 grazie a presto